Il lavoro straordinario effettuato a Piacenza per garantire le cure a domicilio per i pazienti Covid ora è riconosciuto a livello nazionale. Nei giorni scorsi infatti il Senato ha approvato l'istituzione di un protocollo unico italiano per la gestione a casa dei malati di coronavirus. Le cure a domicilio hanno il vantaggio di aiutare i malati Covid ma anche di evitare che gli ospedali vadano in sofferenza. Da un lato, prima cosa, con una ricaduta favorevole per questi pazienti perché curati precocemente non si aggravavano e non arrivavano all'ospedale. L'altro punto molto importante è che se l'ospedale resta libero per altri pazienti l'assia dei letti liberi per altri pazienti possiamo ricoverare malati di tumore, di infarto, di ictus che altrimenti farebbero fatica a ricevere le cure. Adesso si dovrebbe fare rapidamente dei gruppi di lavoro che possono stabilire dei protocolli omogenei su tutto il territorio nazionale delle cure a domicilio perché vi è abbastanza eterogeneità. Il Piemonte è un protocollo, la Toscana ne è un altro, Marche e Umbria ne è un altro ancora quindi deve avere qualche cosa di unitario anche per equità di cura ai cittadini italiani. Proprio il 12 aprile oncologi, cardiologi e dematologi hanno inviato un report che fotografa la situazione di estremo disagio per le cure no Covid in Italia con visite, esami e interventi ritardati o cancellati per migliaia di malati di cancro o cuore. A Piacenza la situazione invece è sotto controllo. Teniamo presente che col Covid nella prima ondata era praticamente obbligatorio perché siamo stati investiti da un mondo d'urto notevolissimo a Piacenza ma poi dopo noi siamo riusciti a riaprire gli screening ma in altre realtà italiane non è così quindi ritardare la diagnosi di tumore, cosa succede? Che il tumore lo potremmo trovare in una fase più avanzata con le metastasi quando ci sono le metastasi è molto difficile guarire. Grazie. Grazie. Grazie.